sulle tessere le porte devono essere chiuse per l'iscrizione dei vecchi iscritti al partito nazionale fascista c'è un giorno dicevano iscriversi ma a partire da tot non possono più iscriversi e poi riaprono le iscrizioni a quel punto Pavolini manda dei messaggi dicendo bisogna tenere le porte chiuse agli ex del partito nazionale fascista che non si sono ripresentati al partito fascista repubblicano però poi da mandato alle singole federazioni di decidere loro. Io ho trovato questo contenzioso interessante, fate i libri a guardare nelle carte interne perché questo contenzioso interessante che riguarda il fascio di Milano dove lì c'è questo Boattini che ha preso le redini della federazione dopo l'assassinio di Resega e lui è molto duro, non vuole questi ex del PNF che rientrino nei ranghi del partito fascista repubblicano ma c'è questo qua, questo industriale che si iscrive a Perugia e Rocchi di Perugia lo iscrive per dire Rocchi che sarà durissimo contro la resistenza, contro l'antifascismo però è morbido rispetto a queste anime, a queste anime legate al potere, al potere economico o al vecchio potere e quindi lui lo iscrive, quindi c'è tutto questo contenzioso perché questo chiede il passaggio a quel punto a Milano. Un Resega forse era diciamo un'anima combattentistica di un rinnovamento pulito non contro gli ex che hanno demeritato però neanche con l'anima squadristica, ecco un Resega non era per un'anima squadristica che andasse a far vendetta rispetto a chi si è risposto il 26 luglio. Boattini dopo Resega è chiaramente un'anima molto più intransigente squadristica, tant'è vero che si trovano fra i documenti all'archivio centrale dello Stato, nella segreteria particolare del Duce, documenti di fascisti che non vogliono avere niente a che fare con strutture fasciste, in particolare la Muti, perché vengono accusate di essere quelle che hanno ucciso Resega. Quindi per loro, alcuni fascisti, Resega non sarebbe stato ucciso dalla Resistenza, dal Gappista, ma è stato ucciso da squadristi fascisti che erano contrari alla linea politica di Resega. È possibile, la situazione era tale che rende plausibile il fatto che alcuni di questi squadristi, quindi un'altra componente a fianco dell'altra nella stessa federazione, ma un doppio partito, un partito doppio, il partito diciamo con Resega e quest'altro partito con questi squadristi e allora la Muti, comandata da Colombo, era una squadra del partito, che poi dopo si è sviluppata diventando la legione Muti, ma nasce come squadra del partito, quindi legata alla federazione. Dunque, se questi squadristi è plausibile che abbiano fatto fuori Resega, perché Resega era contrario a un'azione indiscriminata contro le diverse anime dell'antifascismo che si erano mosse il 25-26 luglio. Gli scontri interni che possono arrivare all'uccisione di un fascista da parte di un altro fascista motivano questo dubbio e così per il fatto di Ferrara, per Ghisellini che ha ucciso Ghisellini, è plausibile che l'abbiano fatto fuori gli squadristi. Anche lì un partito doppio, c'è la federazione che ha come commissario federale, quindi come primo responsabile Ghisellini, però poi c'è l'altra parte del partito composto dagli squadristi. Con ogni probabilità quarantennici, cinquantennici e quelli ancora del 20-21-22. Poi ci sono i giornali e a volte anche i giornali, qui sarebbe molto interessante un'analisi più puntuale per più casi, anche i giornali sono portatori di una loro linea. Nel caso del fascio di Milano è essenzialmente quella degli squadristi, la linea che il fascio porta avanti in questo periodo, come ho potuto vedere io. Infatti dicono, noi resega pensavamo che tu fossi e invece non sei, minacciano. Così come a Pesaro rispetto a Giambi Bonacci, che anche lui è un'anima combattentistica di rinnovamento e così via per l'unità. E anche qui sulla stampa noi pensavamo che tu fossi così e invece sei. Nel caso di resega proprio dicono, questa non è l'ora della penna, è l'ora della spada, ricordatelo.